ciao barbie family bentornati in un nuovo video allora ve l'avevo anticipato in qualche video ma non mi ricordo anche nella diretta finalmente l'avrete visto anche dalla copertina siamo voglio ritirare toby e angel gli abbiamo dato il nome toby e angel allora doveva essere solo angel ma poi io mi sono innamorata del maschetto e niente comunque dopo oggi è mercoledì non so se riuscirò a caricarlo oggi stesso il video lo caricherò magari per domani o in serata non lo so perché oggi è mercoledì ho portato stamattina macchia dal veterinario per operarla poi vi vorrò anche aggiornare su macchia anche perché ho parlato col veterinario e mi ha detto cosa potrebbe essere stato alla zampetta di macchia quindi quello farò un video poi a parte del vi farò vedere macchia comunque andrà a stare bene perché si vive benissimo anche con tre zampette se la zampetta non si poteva salvare perché lei è stata troppi giorni fuori casa se veniva prima la portavamo prima e riuscivamo a salvare però purtroppo vabbè pazienza cose della vita l'importante dico l'importante è che macchia è qua con noi lo stesso che abbia una zampa e meno abbia non me ne frega per me è la mia macchietta quindi li vorrò bene anche con tre zampe non cambia l'amore che ho per lei ok detto questo non ho fatto la ripresa mentre andavo a prenderli perché è stata una cosa così improvvisa però ho fatto la ripresa quando sono tornata a casa e ho portato in casa e poi verranno qualche video spezzettone di noi mentre li riprendiamo in serata che magari giocano che magari ti mordicchiano e che cosa ne so e poi faremo anche altri video con loro vi faremo vedere come cresceranno diciamo che sono tutte le mascotte del canale c'è baffo c'è macchia c'è pluto c'è 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 toby c'è angel mamma mia quante mascotte ammazzate la famiglia si è allargata c'è la nonna lucia di ooooh 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 mamma ne vuoi uno no c'è già il mio macchino poi io sono da sola vabbè bra 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 ma tanto se glielo regaliamo uno eeeh se no glielo regaliamo se glielo veniva regalato anche lei uno non gli diceva di no perchè è andato con tutti gli animali così lei ha l'ottimo no la non voglio poi non morire la mamma quindi e niente adesso chiudo la intro perchè dovevo farla e mi preparo sono già pronta metto le scarpe e vado a prendere macchia sentite i stanno dormendo spicciazzo dappertutto si mordono metto le scarpe stanotte le ha tenute lei oggi pomeriggio ho riposato io quindi stanotte perchè stanotte non hanno dormito nooo quindi non hanno dormito loro e non ha dormito lei quindi stanotte solo come l'idea lei stasera andrà a letto per le 10 perchè deve recuperare giusto? giusto? ah c'è il brufo no deve fare male e vabbè eeeh e poi io sto giù con i caneulini quindi stasera non dormerai già compratto i tappetini che spisciazzano nooo si un po' si un po' su devo ancora imparare stasera adesso non dormerai però fa niente chi se ne frega sono pisciatine così stasera stai svegliatello si chi se ne frega va bene detto questo vi lascio ai mini clip che abbiamo girato spero che vi piacciano e vi aggiorno su loro vi aggiorno su macchia che comunque andrà a stare bene vi aggiungiamo su tutto ora non gli farà più male la zampa quindi sono contenta lo stesso perchè eeeh gli hanno tolto il dolore eeeh eeeh spero di riuscire a fare in fretta anche la famiglia fontana perchè tra una cosa e l'altra ora eeeh 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 bene ma si ma la faremo la faremo magari domani la giriamo si perchè devo fare anche il video domani di macchia dove vi spieghi e si comunque in questa fine settimana vedrete la famiglia fontana eeeh detto questo io vi mando un bacione e vi lascio alle mini clip mi raccomando mettete like e iscrivetevi al canale e anche alle foto finali perchè abbiamo fatto anche le foto mamma mia quante foto eh sei andata a prenderli andata a prenderli guarda che scappa maffo una perché piangi dai che devo andare a prendere il latte aspetta che si è attaccato a me amore mio aspetta poi dobbiamo prenderti la pappu amore fa vedere ma mi si è graffato amore ma mi si è graffato è normale c'è le unghiette leva c'è una tibulina cibulina aiuto ecco la femmina terra al maschio chi è chi è chi è chi è chi è chi è no quello ribalta tic beve latte guarda mangiato solo toby e angel ciao toby ciao toby cosa fai cosa fai toby cosa fai cosa fai cosa fai cosa fai cosa fai ma cosa fa mi ha fatto la pipì cosa fai cosa fai cosa fai toby non c'è macchia che vi ringhia toby ma lui è è un ballerino guarda 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 dindolindolando ecco agna l'hai mangiato tutto l'hai mangiato tutto l'ha mangiato tutto la lotta di pupaccio pupaccio lotta pupaccio l'hai pupaccio dove vai toby sei più grosso di te ancora un po' pupaccio ma 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 mi dai la testa i sono svegliati adesso faccio la nina qua di notte nel cartone che sennò girano e ritrovo i rotolati Pronta per quella birichina Che non fa mangiare Simona Io ho preparato il lattuccio Adesso glielo do Perché lei vuole la pasta Vuole la pasta asciutta e non può mangiarla Sentelo dirlo Latte 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 Ha mangiato e sta sognando Corre, corre, guarda come corre Guarda, guarda, sta correndo Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre Qua ? Qua? Mi sa Grazie a tutti 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 Grazie a tutti